Il calcio d'inizio spetta l'Italia. Marchisio. Italia si rende perigolosa. Ottima iniziativa da parte di Mario Ballotelli. Gioco di passaggi. C'è il cross. Dovrebbero sfruttare meglio i cross dalle fasce. Non riesce a difendere palla sull'attacco degli avversari. Colpisce il pallone di testa. Parada sicura del portiere che blocca la palla. Possono far male in contropiede. Lugano. Ramirez. Diego Forlano. La passa al compagno. Si spinge in avanti. Sembravano incapaci di impedire l'avanzare degli avversari. Pirlo. Sviluppano il gioco. Non vanno oltre. e sarà rimesso dal fondo. Pirlo. Sa mandare in porta i propri compagni con lanci perfetti. Italia si fa avanti. Tiro. Rete. Splendida rete. Cavani. Diego Forlano. Palla intercettata. Hanno ampi spazi per ripartire. Completa il passaggio. Lottano per conquistare il pallone. E sventa il pericolo con un intervento spettacolare. La difesa ha allontanato in modo efficace. Ma ora la palla è tornata agli avversari. e potrebbe crossare. Sale un compagno ad aiutarlo. Cossa. Si impossessa della sfera. Può servire il compagno che si libera. Gargano. Si avvicina all'aria. Avanza. Non riescono a fermarlo. Difesa in difficoltà. Non riescono a fermarlo. Ballotelli. Marchisio. Raggiunge il compagno. Grande chiusura difensiva. Gargano. Vediamo il tiro. Palla che finisce a lato. Marchisio. Italia con una manovra d'attacco. Pérez. Pérez. Ramirez. Gioco di passaggi. Efficace l'intervento difensivo. Ballotelli. Fa salire la squadra. Si contendono il controllo del pallone. Passa la palla. E salva la sua squadra. E salva la sua squadra con questo magnifico intervento. Ottimo passaggio. Avanza verso l'aria. Caceres. E sfuma l'azione. Entra in scivolata. Palla fuori. Rimessa da fondo. Caceres. Gargano. Pallone intercettato da Pirlo. Appoggia al compagno. E c'è il cross. Hanno la possibilità di colpire in contropiede. Come la sfrutteranno? Passaggio a bu. E sono stati bloccati proprio sul più bello. Mantiene il controllo della palla malgrado la marcatura sfissiante. Scarica sul compagno. Parte il tiro. Cannonata. Ma il pietere c'è. L'Italia si truisce il quino di un corno. Calcio d'angolo battuto con la palla che viene riconquistata dagli avversari. Cavani. Caceres. E' entrato con successo sull'avversario. Marchisio. Si lanciano in avanti. Tiro improvviso. Non trattiene. Il tiro. Attenzione, rete. Incolpevole quel portiere. Decisamente. Non poteva fare nulla, Fabio. Il portiere non è riuscito a trattenere la palla che è finita tra i piedi del giocatore. A quel punto segnare è stato un gioco da ragazzi. Il gioco. 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 Ci sarà un solo minuto di ripeto. Peres. Abate. Valotelli. Da lì può metterla in mezzo. Crossa in mezzo. Traversone preda della difesa avversaria. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2 a 0 il punteggio. Peres. Grazie. Grazie. Prepariamoci ad assistere al secondo tempo dell'Allianz Arena Diego Forlani Cleberson De Rossi interviene sull'avversario Scarica sul compagno Chiusura efficace Marchisio De Rossi Si muovono bene, non è solo al centro Ci prova da lontano Avrebbero potuto consolidare il loro vantaggio Marchisio Perez Valotelli Pereira Trova il compagno Azione L'arbitro fischia Si, calcio di rigore Servono a scossa se vogliono sperare di recuperare Realizza il calcio di rigore Sembra aver accusato il colpo Ma credo che voglia provare a restare in campo Se darci qualche informazione Matteo Si Fabio, credo abbia subito una distorsione alla caviglia Per fortuna non tale da costringerlo a uscire Grazie E con questo gol Il loro bottino cresce Pereira Sempre pericoloso e attento De Rossi Palla al compagno E si getta a terra nel tentativo di rubare di palla Palla persa Un po' traballante la difesa Possono imbastire una nuova trama offensiva dopo aver recuperato palla Ecco che tenta il tiro Il portiere dà segni di vita e blocca il tiro Sembrava destinato in fondo alla rete E invece è riuscito a intercettare la palla Allunga il compagno Allontana il pericolo Bravissimo Palla fuori Ha fatto la cosa giusta Non ci ha pensato su due volte Vediamo che l'allenatore decide di effettuare una doppia sostituzione Tiro Troppo centrale per il peseriere e il portiere Palotelli E guadagnano una punizione da distanza davvero favorevole Ammunizione in arrivo Come risultato ormai al sicuro si è concesso una leziosità di troppo Palotelli Gonzales Ramirez Cleberson Cerca di fermarlo con una scivolata Marchisio Marchisio E il difensore ferma l'azione Questa è un'azione pericolosa Palla intercettata Raggiunge il compagno Interrompe l'azione avversaria Gonzales Ramirez Bel passaggio Non li lasciano giocare Palla fuori Rimessa laterale Ramirez Giocata spettacolare a servire il compagno Lugano Cavani Completa il passaggio Si muovono bene Non è da solo Non si lascia arrivare il pallone Avanza verso l'area avversaria Marchisio Palotelli Non è da solo al centro Serve il compagno Sviluppano il gioco A spazio Prova il tiro Attenzione Gol E quanti sono con questo? Non lo so Fabio Ho perso il punto Grande azione Hanno colto completamente di sorpresa Gli avversari E ormai Sembrano aver fatto loro la partita Pereira Pirlo Pirlo È riuscito a liberare Magnifico Rimessa con le mani A favore dell'Italia Mantiene il possesso di palla Riesce ad avanzare Si fa sotto Stanno cercando di chiudere definitivamente la partita Gargano Gargano Pereira Palla riconquistata con un contrasto pulito Trova il compagno Gargano E la palla non passa Gonzales Gioco di passaggi Chiusura Buonissima L'azione non può procedere Passa la palla Queste palle recuperate da Chiellini Permettono alla squadra di ripartire E finisce così Triplice fischio Oggi si è vista una sola squadra in campo Sì Fabio Hanno dominato dall'inizio alla fine Finisce qui Grazie per averci seguiti Alla prossima Grazie per averci seguiti 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 Grazie.